Ci sono le fasi delle celebrazioni e poi c'è la fase del lavoro. La celebrazione è veramente emozionante, non pensavo, nonostante nella vita ne ho viste tante, ma non pensavo fosse così emozionante. Adesso andiamo nella fase più importante, che è anche quella che io prediligo, e cioè quella del lavoro. E il lavoro vuol dire per noi, certamente la parte operativa deve preparare una straordinaria edizione e dobbiamo lavorare insieme, tra tutti noi, con rispetto, con lealtà, la fondazione, l'amministratore delegato e tutti noi, tutti noi rappresentanti degli eti locali. E poi c'è invece la parte più importante, la parte sportiva, che si deve preparare. Io credo che siate tutti d'accordo con me nell'augurarci che loro ci siano ancora alla prossima edizione. E non solo loro, con i presidenti di preparare alla grande l'Italia per Milano-Cortina 2026.